Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge costituzionale numero 1585b modifica gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Ricordo che per l'approvazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. La votazione è aperta. Migliorino, Aprea, Russo Paolo, la votazione è chiusa. Presenti 569, votanti 567, astenuti 2, maggioranza 316, favorevoli 553, contrari 14, la Camera approva.